Conclusione, credo veramente sia stato interessante, siano stati interessanti i contributi portati oggi. La cosa teoricamente interessante, come diceva anche il sindaco, è che noi c'eravamo posti un obiettivo che questo fosse l'inizio di un percorso e il fatto di proporre un manifesto, comunque un documento che portasse e facesse condividere le amministrazioni ma poi anche forse in fase successiva alla realtà produttiva questi obiettivi, eravamo incerti se proporlo o no oggi. È uscito senza che noi decidessimo e in questo caso sia la forza della partecipazione e delle sinergie. Dobbiamo, a mio giudizio, stringere i tempi adesso per formalizzare questo passaggio, ovviamente dopo un'intelore fase di partecipazione e lo strumento è sicuramente quello dei comuni associati che potrebbero lavorare sia su aspetti di strategia perché la sostenibilità ha permesso di strategia ma anche forse su aspetti molto pratici e operativi come la condivisione di attività che gli uffici oggi fanno in modo concreto per ragionare proprio su due livelli. Grazie a tutti e buona giornata!